Ciao, mi chiamo Domenico Principato e sono direttore creativo, illustratore grafico e designer di oggetti. Mi piace lavorare con le immagini e partire dalle stesse immagini per raccontare una storia. Per me dietro ogni immagine c'è una storia che l'accompagna, come dietro ogni oggetto c'è una funzione per cui è stato realizzato. Siamo bombardati da immagini e contaminati da mille impulsi, quindi perché non racchiudere tutto questo attraverso un oggetto veicolato dalla nostra immaginazione piuttosto che dalle nostre mani. Cos'è per me il design? Non vorrei tanto soffermarmi sull'uso improprio di questa parola che ho avuto negli ultimi anni, con eccezione di carino, bello, tecnologico. Do il mio punto di vista che è quello più vicino a me e quello che vorrei che fosse comune un po' a tutti. realizzare qualcosa da una forte componente estetica, dare una nuova forma ma mantenendo comunque la funzionalità dell'oggetto stesso che andiamo a realizzare. realizzare qualcosa da un po' a tutti.